Nasce in Toscana la rete regionale del Codice Rosa che collega e coordina tutte le forze che all'interno del Servizio Sanitario Toscano lavorano per offrire alle persone vittime di violenza e abusi un aiuto pronto e tempestivo. Per il funzionamento della rete per l'anno 2017 la regione ha stanziato 150 mila euro, 100 mila da assegnare alle aziende sanitarie e 50 mila per la realizzazione delle attività formative. L'ospedale Aretino è stato tra i primi ad attivare questo importante progetto che vede la collaborazione stretta tra personale sanitario, forze dell'ordine e procura della Repubblica. La metodologia del lavoro in rete che prevede l'individuazione di gruppi multidisciplinari e multiprofessionali è ritenuta lo strumento più adeguato per assicurare continuità all'esperienza positiva finora realizzata. Nella struttura organizzativa della rete regionale sarà individuato un responsabile scelto tra figure professionali in possesso di specifiche competenze in materia e che avrà il ruolo di coordinamento complessivo. Il progetto, grazie dunque a questo ulteriore momento di formazione del personale, avrà una sua omogeneità in tutto il territorio regionale.